Salve a tutti amici di questo canale. Oggi volevo parlarvi di un problema serio per tutti noi albanesi d'Italia. Almeno una volta all'anno torniamo in Albania e la maggioranza di noi si reca nei porti di Bari o Brindisi per partire col traghetto. Dire che è un inferno è dire poco. Nelle dogane di Bari e Brindisi devi attendere come minimo tre ore e in alcuni casi anche sei ore. Come se non bastasse questo, in inverno devi aspettare col freddo estremo e in estate col caldo torrido. E queste non sono condizioni accettabili. Eppure la Regione Puglia guadagna milioni di euro. Infatti ogni albanese che si reca in Puglia paga le autostrade, compra negli autogrill, paga il biglietto del traghetto, paga le tasse di imbarco. Tutti soldi di cui la Regione Puglia si intasca una bella percentuale. Sono circa un milione gli albanesi che partono dalla Puglia per l'Albania ogni anno. Quindi immaginatevi quanti soldi beneficia la Regione. Per non parlare poi dei traghetti che ci sono per l'Albania. Sono sporchi e vecchi. Percorrono gli 80 chilometri che separano la costa pugliese dalla costa albanese in otto ore. Troppo. I biglietti sono costosissimi. Andare da Brindisi a Valona costa il doppio che andare da Ancona a Jugomenizza o Ancona-Spalato. Quindi vi consiglio anche a voi di non partire più dalla Puglia. E vi do alcune alternative molto più convenienti ed economiche. La prima alternativa riguarda gli albanesi che vivono nel nord Italia. Possono passare per Slovenia, Croazia, Montenegro e arrivare in Albania pagando solo la benzina che è circa 300 euro andate e ritorno. La seconda opzione invece è quella di andare nel porto di Ancona e prendere il traghetto per Croazia o per Grecia e poi raggiungere l'Albania con la macchina. Io è da quando l'ho scoperta che faccio la tratta Ancona-Spalato e poi dalla Croazia raggiungo l'Albania in auto. I porti di Ancona e Croazia hanno un'altra cultura rispetto ai porti pugliesi. Controllano molto, come è giusto che sia, ma non fanno aspettare la gente inutilmente. 30 minuti è il massimo di attesa nei porti di Ancona-Spalato. Per non parlare del traghetto della Croazia pulito e puntuale. Il traghetto della Croazia parte alle 20 di sera e arriva alle 8 del mattino. E non scherzo quando dico che non tarda neanche un minuto dagli orari indicati sul biglietto. Mentre i traghetti di Bari e di Brindisi partono con almeno 4 ore di ritardo nel migliore dei casi. Se i servizi non miglioreranno vi invito a non partire più dalla Puglia. Le alternative ci sono. È da 25 anni che partiamo dalla Puglia e ci trattano come bestie. Non chiediamo di essere trattati come dei re, ma almeno un minimo di rispetto, essendo la Puglia una regione che si trova in Europa, almeno che ci siano le condizioni europee. Vorrei sapere se anche voi la pensate come me, o se invece la vedete diversamente questa cosa. E come andate in Albania di solito, passando per l'inferno Bari-Brindisi o avete altri percorsi? Un saluto, al prossimo video! Grazie a tutti!